Un ultimo atto di giunta. Abbiamo definito l'avvio della procedura per far sì che i lavori al parcheggio, oltre alla stazione, un parcheggio importante per la nostra città che va a dare un servizio in più ai pendolari che gravitano sulla stazione ferroviaria di Vercelli. Un parcheggio importante che nella primavera del 2016 troverà attuazione nella sua prima parte, grazie anche alla presenza del sottopasso realizzato dalle ferrovie dello Stato che nel primavera aprirà nei prossimi mesi, per cui permetterà ai pendolari di parcheggiare oltre la stazione, quindi togliendo questo carico di automobili all'interno della città e avviando in questo modo tutto un sistema di transito e di parcheggi che andrà sicuramente a modificare quello che è l'assetto attuale.